buongiorno amici venerdì 14 ottobre 2022 siamo entrati nella stagione clou per la pesca delle grosse carpe io non sono più un carpissa e spendo queste belle giornate autunnali in allenamento con il mio cane ma parlando di pesca andiamo avanti con i capitoli del libro car fishing ambiente strategie ci siamo lasciati alla spalle l'ultima volta una disquisizione in due puntate sul car fishing nei canali che vi invito ad andare a rivedere se non li siete persi i video li trovate tutti su questa pagina su questo canale youtube e sono tutti numerati quindi potete andare ritroso rispecchiano i capitoli del libro e sono ispirati dallo stesso questa puntata è comunque contingente al capitolo dei canali perché parleremo di acque salmastre la nostra splendida penisola è caratterizzata da diverse bellissime lagune ambienti cioè dove il mare la terra si intersecano compenetrandosi a vicenda ambienti dove le acque dolci sfociando nel lagune per arrivare al mare subiscono dei rimescolamenti col salato con l'acqua del mare stessa e questo fa sì che si creino degli habitat spettacolari e particolarmente vantaggiosi anche per le grosse carpe poi vedremo perché siamo talmente fortunati da avere anche delle cave posizionate nei pressi del mare che subiscono l'intrusione sotterranea di vene di acqua salata e quindi abbiamo anche degli ambienti lacustri salmastri dove le carpe proliferano allora ci sarà un po' da disquisire ma togliamoci subito il dubbio che le carpe tollerano bene il salso il fatto di avere questo gel questa mucosa che riveste il loro corpo le protegge dal contatto con l'acqua salata non possono vivere nell'acqua salata possono tollerare percentuali di sale e possono muoversi più o meno verso il mare in funzione di quello che è definito il cono salino cioè in funzione dell'intrusione dell'acqua salata in genere prediligono stare ai margini ovvero dove acqua dolce e acqua salata si intersecano e dove l'acqua salata più densa e pesante di quella dolce scivola sotto l'acqua dolce creando questo fenomeno che è definito cono salino nell'estate del 2022 abbiamo capito quanto può essere potente il cono salino perché a fronte di una devastante siccità l'acqua del mare è risalita per molti chilometri dalle foci dei fiumi generando ingenti danni per l'agricoltura soprattutto la tolleranza delle carpe al salso è nota da tempi immemori perché uno dei metodi di disinfezione dei pesci più utilizzato nell'allevamento delle coi è immergerle per alcuni minuti in acqua con delle percentuali di sale cloruro di sodio aggiunto in modo da ammazzare tutti i parassiti che possono avere sul loro corpo prima di spostarle magari da un ambiente all'altro in modo da evitare di spostare anche i parassiti quindi sappiamo che questa azione è anche diciamo positiva per le caspe che di fatto se facciamo caso negli ambienti salmati sono molto sane hanno lo spessore del muco più abbondante rispetto ad acqui più sporche interne inquinate e rimarginono le ferite in tempi veramente veloci quindi questa coabitazione è positiva per le carpe ma dove sta la chiave realmente vantaggiosa per i pesci che si insinuano al limite del cono di acqua salata se pensiamo ai canali dobbiamo considerarli come ambienti ricchi ma non ricchissimi di alimento in genere anche popolati da molti pesci quindi il rapporto alimento numero di pesci non è quasi mai completamente a vantaggio della crescita in termini ponderali cosa succede quando il mare entra nell'acqua dolce succede che si porta dietro un insieme di animaletti di cui le carpe sono estremamente ghiotte si va da quei piccoli gamberetti di pesci chiamati corbole non so se sia il nome in italiano il nome locale con le corbole insomma granchi e un insieme sostanzialmente di piccoli crostacei e invertebrati che rappresentano un alimento di eccezionale qualità in termini nutrizionali di cui i pesci sono ghiotti e ci accorgiamo quando le carpe dell'acqua salmastra si nutrono di questi animali perché tendono ad assumere una colorazione ventrale e delle pinne in particolare molto gialla verso l'arancione a volte proprio un arancione anche estremamente spinto l'arancione estremamente spinto è dato dall'alimentarsi di granchi che sono particolarmente ricchi di carotenoidi dei fattori pigmentanti che poi si trasferiscono anche all'animale che se ne nutre cioè in questo caso la carpa quindi già vedendole le carpe di canale possiamo capire da alcuni tratti caratteristici di cosa si alimentano ecco che il loro muoversi e il loro alimentarsi è quindi legato oltre alle normali dinamiche del canale stesso anche alle fasi intrusive della marea a salire e non è un caso che in molti ambienti i pesci siano particolarmente propensi a nutrirsi in queste fasi di scambio perché trovano di loro questo nutrimento che fa ovviamente scattare una frenesia che i pesci si comunicano fra loro con sostanze chimiche complesse chiamate feromoni e una volta che si è innescato questo meccanismo per cui quando mangia un pesce sono poi stimolati a mangiare anche gli altri quello che c'è c'è quindi in questo caso se noi siamo in pesca e le nostre esche sono sul fondale e magari sono propriamente attrattive anche per i granchi per i gamberetti e via discorrendo ecco che si crea una sorta di festino che nell'epoca d'oro di canali come il dese o fiumi come lo zero permetteva di fare decine di catture per notte notti insonni a prendere pesci di fatalità quando c'erano i moti di marea giusto quindi chiudiamo questa prima pillola ce ne sarà almeno un'altra con la prima considerazione fondamentale del pescatore di acqua salsa che è quella di dotarsi di uno strumento fondamentale che si chiama libretto delle maree chi altro non è che un documento redato dalle capitanerie di porto che indica a che ora e con che intensità la marea farà il suo corso e oltre ad avere in mano il libretto delle maree il nostro carpista specializzando in acqua salsa dovrà imparare a interpretarlo e a calcolare la differenza di orario tra quello scritto sul libretto e il posto dove pesca lui che potrebbe essere anche a qualche chilometro di distanza dal mare